Ciao a tutti apicoltori e non, oggi voglio condividere questa scoperta, in realtà l'avevo scoperta già l'anno scorso ma non gli davo speranza comunque voglio condividere questa scoperta di un alveare che riesce a vivere da solo in natura senza il supporto dell'apicoltore cosa che è abbastanza rara e adesso vi faccio vedere da vicino cosa si vede, mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se vi piacciono i video e adesso vi faccio vedere un po' cosa si trova, ciao ciao giusto per smentire la mia tesi che le api senza gli apicoltori non sopravvivono, cosa che a livello generale è vero sono due anni che trovo questo alveare ancora attivo, questo è un alveare urale, probabilmente mancuno che c'è un po' di movimento guardate qua sono due anni che le vedo, allora io lo terrò monitorato, qui siamo sulla statale 11 proprio a fianco al passaggio delle automobili come potete vedere, e hanno scelto questo platano come dimora, probabilmente dentro è cavo e loro lo trovano molto interessante, ma guardate che movimento che c'è nonostante la giornata orribile probabilmente stanno portando a Edera visto che siamo a fine stagione vi farò sapere più avanti com'è che sta andando, come progredisce incredibile è da selfie sta roba comunque insomma questa è una speranza ciao ciao